Il bello e il brutto del calcio a seconda dei punti di vista, il brutto per l'Atalanta che ha gettato al vento tre punti pesanti per la sua classifica e conduceva 2-0 fino al quarantesimo della ripresa, fino ad allora un'Atalanta equilibrata e brillante come poche volte quest'anno poi il blackout improvviso, il bello del calcio naturalmente per l'Empoli che ritrova se stesso nel finale di gara dopo una partita in tono minore L'arbitro Bolognino l'ingresso in campo, Atalanta invece di nuovo senza Rossini, infortunatosi proprio la vigilia Frattura del setto nasale, al suo posto Bianchi, per il resto Vavasori conferma la squadra che aveva fatto bene a San Siro Baldini si affida dell'Empoli del secondo tempo contro il Modena, dunque con Cappellini sostituto dello squalificato Vannucchi Passeggiata antistress per i due tecnici, 49 secondi l'Atalanta pericolosa, il cross di Zenoni si avventa Comandini ma Berti è già caldo e risponde in angolo Comandini dunque subito pericolosi, Nerazzurri spingono con un 4-4-2 ordinato ed elastico Sul cross di Foglio la respinta di Pugno di Berti, un assist a Doni che non si fa pregare, piatto sinistro e Bergamaschi in vantaggio al tredicesimo Terza rete stagionale per Doni, nelle immagini rallentate il regalo di Berti agli atalantini che compensa il favore ricevuto sette giorni prima dai Toscani e dal portiere del Modena, Ballotta Ospiti illustri a Bergamo, Maldini e Ulivieri in tribuna, Lempoli non ha idee né brillantezza, da allora ancora l'Atalanta minacciosa, sempre Berti In uscita al 34esimo la palla arriva a Zenoni che di controbalzo raddoppia per i Nerazzurri Prima rete stagionale per Damiano Zenoni, ancora un'uscita non impeccabile di Berti, doppio rimbalzo e il destro vincente Corre ripari Baldini al 36esimo, uno spento Cappellini esce per Grieco che va a sinistra con Bouchet, trequartista La ripresa si apre con un assist di Rocchi per Tavano, a tu per tu con Taibi che sceglie bene il tempo dell'uscita e sventa il pericolo I padroni di casa sono comunque sempre vivi dalle parti di Berti, il destro di Bianchi al decimo e di poco alto, sempre alla ricerca del primo gol in Serie A, Bianchi Ancora Atalanta al 13esimo, fa tutto bene Foglio, prima lo stop, poi la battuta a rete di prima intenzione, Berti in angolo La premiata ditta Baldini dell'Empoli a colloquio, l'Atalanta sembra avere in pugno la situazione Ma l'Empoli ritrova se stesso, la squadra agile ed incisiva, dalle manovre in profondità nel giro di 4 minuti Al 40esimo, Rocchi illumina, Tavano fulmino in area, attraversa, bravo Grieco a riprendere in acrobazia, a mettere in porta per il suo primo gol in Serie A Da rivedere la prodezza del ventenne napoletano Gaetano Grieco, lo scorso anno al Parma dopo tre stagioni nel Genoa in Serie B Per l'Atalanta la partita sembra finita, per i toscani no, al 44esimo ancora Rocchi nei panni di uomo assist Perfetto inserimento di Tavano che sigla il gol del pareggio Seconda rete in Serie A per Francesco Tavano da Caserta alla seconda stagione nell'Empoli E il 2-2 e lo rivediamo ancora Per l'Atalanta un successo pesante buttato via, per l'Empoli il primo pareggio esterno della stagione E la linea ritorna a Fabrizio Maffei